Il nome del locale ripropone il nome originario dei primi abitanti di epoca storica. Il ristorante si sviluppa in due ambienti ugualmente eleganti e raffinati, all'interno di solide mura di altri tempi e su una terrazza panoramica affacciata su un paesaggio idilliaco. Il menù offre numerose predibatezze della cucina marchigiana. Qui si portano in tavola colori e sapori della campagna, dei monti e del mare. A dirigere la cucina c'è Giampiero Giammarini, titolare del locale, qui impegnato a cucinare una sua specialità, il petto d'anatra al rosso piceno con tortino di verdure. Rimaniamo colpiti dalla qualità e dalla freschezza degli ingredienti ed alcuni semplici accorgimenti che ci rivela durante la preparazione del piatto. Quei piccoli dettagli che fanno la differenza. È ben noto che oltre a profumo e sapore, è con gli occhi che inizia la degustazione, composizione del piatto e armonia dei colori. Ai Piceni si può anche trascorrere un piacevole soggiorno in camere sobri e raffinate. La cantina offre un'ampia scelta di vini sia rossi che bianchi.